Una breve introduzione per chi non ti conosce ancora su cosa fate e come lo fate. Ok, allora io sono l'architetto Alberto Totaro e sono appunto come diceva Alessandro il fondatore di Total Render, una società specializzata nella realizzazione di planimetrie arredate e render a supporto delle agenzie immobiliari. In che senso a supporto delle agenzie immobiliari trasformiamo quella che è la terribile planimetria catastale in uno strumento di marketing. Ok, la travestiamo, la ricostruiamo, la riarrediamo e inseriamo quelli che sono le pavimentazioni, il colore degli arredi dell'immobile e diamo agli agenti immobiliari quella che è un'immagine che possono utilizzare da dare al potenziale cliente per esempio per fargli comprendere al meglio quelli che sono gli spazi all'interno della casa. Se ci sono possibilità eventualmente di fare delle ristrutturazioni, di come può diventare quell'appartamentino, magari è un trilocale con degli spazi molto grandi, se il potenziale cliente ha un'esigenza di fare una cameretta in più, o magari c'è la possibilità. Ok, quindi diamo proprio uno strumento agli agenti immobiliari per dare più opportunità a quell'immobile di essere venduto. Dove hai visto la necessità, la nicchia di inserirti con questo tuo prodotto? Da dove è nata? Beh, allora nel lontano 2015, io mi sono laureato in architettura nel 2013, 2014 l'ho passato a cercare di capire cosa fare della mia vita e nel 2015 mi è venuta questa intuizione che più che un'intuizione è stato uno studio di mercato, ok? Io nel 2015 dovevo andare a convivere e mi servivo un appartamentino in affitto con la mia compagna ed effettivamente quando andavo sugli annunci immobiliari da architetto dicevo ci sarà una planimetria per poter vedere? Perché poi oggettivamente ti metti un po' nei panni del potenziale cliente, quindi io in quel caso ero un potenziale cliente di un agente immobiliare ed effettivamente guardavo le foto ma non riuscivo a capire al 100% come era fatto quello immobile. Da tecnico con una planimetria avrei capito molto più velocemente. E quando mi capitava la planimetria catastale dicevo caspita, io lo capisco, ma un fruitore che non è del settore la riesce a capire con la planimetria. Allora da lì ho avuto l'intuizione ma perché non provo a fare queste planimetrie arredate? Quindi mi sono inventato quello che poi in sette anni è diventato il nostro prodotto di punta e per testarlo sul mercato contattavo gli agenti immobiliari su Facebook e dicevo ti va di fare una prova gratuita? E a quelli che accettavano e poi da lì poi... Quindi da una pessima... Esatto, da un'esperienza pessima allora sì, poi io ho voluto risolvere... Ovviamente non siamo i primi ad aver inventato, cioè non abbiamo inventato assolutamente nulla, ma lo facciamo bene con passione e velocemente. Velocemente, che questo è un altro aspetto molto importante. E come credi che questo... Cioè che feedback hai avuto dalle agenzie immobiliari nel prima e dopo utilizzare il tuo servizio? Quindi proporre queste planimetrie decorate o comunque gradevoli alla vista? Esattamente. Ma proprio quello che ti dicevo prima, cioè molti agenti immobiliari ci contattano dicendo magari hanno già un potenziale cliente, hanno già realizzato la planimetria arredata, però mi chiedono ma Alberto, secondo... Cioè ovviamente adesso non più a me ma a tutto il team di architetti che abbiamo, però una delle domande che viene fatta è ma secondo voi in questo immobile se spostiamo quel muro si riesce a creare una nuova stanza? E questo è già un primo feedback che possiamo dare. Un altro feedback con i render, per esempio, cioè per noi è motivo di orgoglio quando gli agenti immobiliari ci contattano e ci dicono Alberto abbiamo fatto vedere questi render di esterni di questa nuova palazzina e su sei appartamenti all'open house abbiamo venduto i quattro, ma perché abbiamo ricevuto tonnellate di lead dalle ads che sono arrivate, cioè che abbiamo fatto con i vostri render. Quindi quello per noi è assolutamente motivo di orgoglio. Io attualmente anche parallelamente a TotalRender ho un'attività che progetta e sviluppa ville nel Comasco e noi vendiamo tutto su carta. Prima di metterle ruspe a scavare abbiamo già venduto le ville. Tutto tramite planimetrie, arredate, render, video render, sia di interni che di esterni. Ok? Poi è sicuramente un prodotto molto bello perché sono ville moderne, eccetera, quindi si vendono anche quasi da sole. Però se non hai gli strumenti per creare delle presentazioni efficaci, fai fatica sia con gli immobili di nuova costruzione che con gli immobili di vecchia costruzione intesi come immobili usati. Quindi l'estetica, diciamo creare una nuova estetica ad un prodotto che non esiste o che pure non è esteticamente appagante, rende? Assolutamente fondamentale. Fondamentale perché non si può più pretendere nel mercato di oggi di vendere dei nuovi immobili con dei disegni tecnici fatti dal geometra o dall'architetto che sono sempre comunque disegni tecnici. Cioè, come più, qualsiasi agente immobiliare sa, è un po' l'emozione da trasmettere al potenziale cliente che lo porta all'acquistare la casa. Ok? E come si fa a emozionare un potenziale cliente guardando dei disegni tecnici con le quote? Cioè, devi farlo viaggiare facendogli vedere un video render o dei render di interni, fargli comprendere che tipologia di materiali può utilizzare, la tipologia di arredo che può andare a utilizzare, l'illuminazione. Noi lavoriamo tantissimo nei nostri render interni con i controsoffitti perché ti danno quell'effetto di moderno dove puoi mettere delle strip led piuttosto che dei faretti e che ti danno proprio quella sensazione molto accogliente all'interno di un'immagine dell'abitazione e quindi di un'immagine che poi è il render della stanza. Un parere molto discordante che di solito riscontro quando parlo con i colleghi è se si è meglio presentare un immobile vuoto o anche con la palimetria vuota in maniera che il cliente possa immaginare la distribuzione dei locali, dei mobili e quant'altro, oppure allestirlo e dare un prodotto tra virgolette finito. Voi avete la possibilità, cioè fate sia le palimetrie non arredate che quelle arredate. Quali delle due vende di più? Quella arredata. Quella arredata. Nonostante costi di più, vende molto di più. Noi su tutti i nostri task che vengono aperti all'interno del nostro gestionale abbiamo un 60% palimetria arredate 2D e 40% palimetria, forse anche meno, forse è un 70-30, 72D e 30 base, quindi base, muri, porte, finestre, nome della stanza. Quindi pulita. Però non so se perché lo spingiamo noi di più o se perché effettivamente piace di più all'agente immobiliare. Questa risposta purtroppo non te la so dire. Mi baso sui dati, però sono falsati dal fatto che noi spingiamo di più nel vendere quelle arredate. Allora io, come dicevo, sono un fruitore del servizio, quindi ho un'esperienza diretta. Io credo che la palimetria arredata è comunque far vedere, dipende poi anche dal target di clientela, perché sono proprio dei clienti che non riescono a gestire uno spazio vuoto perché magari non hanno mai fatto il primo acquisto e quindi non hanno esperienza di dire ma qui ci sta una cucina, qui ci sta un divano. Quindi avere già una pianta con un arredamento posizionato si dà un'idea anche dello scopo della stanza, di quello che deve essere la destinazione. Dopo, se vogliamo fare all in, bisogna fare anche l'allestimento fisico perché... Vabbè, quello non compete a noi. Bisogna, bisogna anche, è giusto avere una buona aspettativa, creare una buona aspettativa nel cliente, però poi bisogna anche mantenere una coerenza quando si va a fare l'appuntamento. Assolutamente sì. La pianta bella, il render bello, ma dentro la casa è una cosa fondamentale che ci tengo a dire è che la planimetria arredata che noi realizziamo, i mobili che andiamo a inserire sono perfettamente in scala, ok? Cioè questo è assolutamente importante perché se c'è un errore del tipo, se un soggiorno è 5 metri per 5, totale 25 metri quadri, non posso mettere dentro 6 divani da 3 e creare degli ambienti giganteschi perché poi la realtà viene fuori. Quindi per noi è fondamentale avere le planimetrie catastali che ci vengono fornite dall'agente immobiliare con lo scalimetro dei 10 metri o con due misure che vengono rilevate dall'agente immobiliare per permetterci di scalare correttamente la planimetria, ok? Sappiamo che ci sono stati casi di altri, adesso non faccio né nomi né niente, dove mettevano gli arredi più piccoli per far sembrare l'appartamento più grosso, ok? E quello è un errore grossolano e assurdo. Nella pianta? Sì, 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 in pianta riducono apposto i mobili per far sì che sembri più grande l'immobile. Sì, diciamo che poi il problema, come dicevo prima, manca la coerenza alla fine. Il nodo viene al petto, quindi quando uno ci mette poi... Quando poi ci vai a mettere un divano e dici ma come, ma nella planimetria è un divano da quattro, invece se ci metto un divano da due già ho finito lo spazio, eh no, allora è un problema. E Alberto, vorrei chiederti, non so se voi fate questo tipo di indagini con i vostri clienti, il feedback dell'agente immobiliare nella... Diciamo il feedback dell'agente immobiliare che ha intervistato il cliente acquirente che ha usufruito, diciamo, di una pianta redatto. Voi avete uno storico di quello che vi diceva? Ma non abbiamo un dato vero e proprio, abbiamo la pagina delle nostre testimonianze, a noi piace chiedere alle agenzie immobiliari di lasciarci delle testimonianze particolari, quindi i feedback sono assolutamente positivi, però non ti so dire effettivamente un feedback dell'agente immobiliare, cioè noi abbiamo tantissimi, veramente quasi un migliaio di clienti in tutta Italia, però non ci viene, non è una parte del processo, non è una parte del processo quella di chiedere all'agente immobiliare che cosa se ne fa di queste planimetrie, perché sappiamo tendenzialmente, noi giriamo tantissimo su immobiliare.it, casa.it per vedere che cosa fanno online, perché è quello che si riesce a vedere e online alcuni agenti immobiliari addirittura mettono la planimetria come prima immagine, come l'immagine del profilo dell'immobile, come immagine principale ed effettivamente lì mi sono fatto due domande e mi sono anche dato una risposta nel senso che è un'immagine diversa dalle altre, cioè quando vendi un appartamento metti l'immagine del palazzo, di solito come prima immagine o l'immagine del soggiorno, ok? Però forse il potenziale cliente finale ha già bisogno come prima immagine di vedere la disposizione, di vedere come è fatto, se è un bilocale, se è un trilocale, se è un quadrilocale, sì lo posso leggere, è vero, ma poi lo sappiamo bene che le immagini hanno un ruolo diverso rispetto alle scritte, ok? Quindi questo è un feedback che ti posso dare, un'altra cosa che noi andiamo a vedere i profili Facebook e Instagram delle nostre agenti immobiliari e siamo felicissimi quando negli open house ci sono le brochure con la planimetria di superrender, quindi lì siamo felicissimi, ma perché? Perché è l'agente immobiliare stesso che si scervella e cerca di capire come utilizzare questo strumento, come tutti gli altri strumenti, quindi uno strumento magari per noi ha una singola funzione per altri agenti immobiliari, si inventano, una volta è successo, addirittura questo lo voglio raccontare, facciamo dei render per questo appartamento in vendita e nell'open house l'agente immobiliare aveva stampato in formato 70% i render e aveva fatto i quadretti, cioè se questa è la stanza dove abbiamo fatto il render che è il soggiorno, ipotesi, ma è completamente vuota perché era una nuova costruzione, ha inserito il render su quella parete ed era effettivamente il render di quella parete, ok? Una sorta di oggi mettiamo il visore e vediamo intorno nella stanza, tanti anni fa mi ricordo di questo episodio, di questi render appesi al muro, uno però ogni lato della stanza, la planimetria è un render decorato, un principio di render 360, esatto, analogico, esattamente, stampato, diciamo le planimetrie render come strumento di marketing, dicevi all'inizio non vi siete inventati niente di nuovo nel senso che le planimetrie decorate sicuramente è un'idea che è già presente nel mercato, cosa vi differenzia rispetto ad altri player che fanno questo lavoro? quello che ci differenzia è appunto la velocità, cioè abbiamo creato dei processi aziendali interni per essere impeccabili sulle velocità, quindi noi garantiamo una consegna delle planimetrie in 24 ore e tramite il nostro team di architetti che sono perfettamente formati a seguire determinate istruzioni riusciamo a garantire quello che è un servizio perfettamente celere, cioè in 24 ore ricevete la mail con ok vai nel tuo gestionale e scaricati la planimetria, poi un'altra cosa che stiamo facendo tantissimo è di andare a integrarci, cercare di integrarci con tutti i gestionali possibili, gestionali immobiliari possibili e immaginabili proprio in queste settimane abbiamo finalmente completato quella che è l'integrazione con il gestionale on office e quindi da lì diventa molto più semplice richiedere le planimetrie perché già direttamente dalla vostra scheda dell'immobile all'interno del vostro gestionale c'è il tastino richiedi la planimetria con tutto il render clic fatto ok cioè non c'è altro da fare se non aspettare 24 ore e trovarvi la planimetria arredata direttamente nella scheda dell'immobile del vostro gestionale quindi non c'è più il ah devo chiamare il geometra devo chiedergli la planimetria aspetta che gli mando una mail perché lui non mi risponde mai dopo due ore ah sì ti ho mandato la planimetria catastale cioè inizia un cinema che si può tranquillamente evitare con appunto l'integrazione l'integrazione con le piattaforme e sviluppi futuri cosa vedi come nel futuro di total render allora implementazione di servizi ci stiamo pensando nel senso che vogliamo è sempre un work in progress nel senso che noi ogni sei mesi facciamo la revisione di tutti gli arredi tutte le texture e le mettiamo a disposizione di nuove sia per gli architetti che per i vari collaboratori che lavorano con noi e quindi c'è sempre un rework di quello che è il nostro standard di planimetria che va sempre ovviamente a migliorarsi quindi con delle grafiche più accattivanti l'aggiunta di cioè stiamo proprio al passo con i tempi anche con il design quindi se il tavolo in legno non è più di moda e inizia il tavolo di cristallo allora cambiamo quelli che sono i nostri arredi ok adesso ho detto due arredi completamente due due tavoli che non si usano più da sacco di tempo però ok il senso è quello e come espansione total render invece dal 2023 saremo europei quindi iniziamo a espanderci in quella che è germania e austria per poi andare spagna in interna francia eccetera quindi il piano è quello da qui al 2026 è già tutto abbastanza definito nella mia testa poi ho bisogno poi bisogna vedere la realtà vi tenete anche alla moda con le finiture si 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 assurda dovete girare anche per negozi di arredamento per capire esattamente poi avendo comunque un team di 28 architetti diciamo che ci sono degli spazi durante il mese dove chiediamo dei feedback ovviamente anche i nostri architetti e quindi se ci dicono ma ragazzi ma c'è quel tappeto lì che è terribile ma lo togliamo e ne mettiamo uno un po' più carino ok quindi va in revisione in quel senso ecco perfetto perfetto quindi non fate le visite guidate da ikea i pulmini bene alberto ti ringrazio per il tuo contributo grazie 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 grazie